Napoli si è aggiudicata il 26esimo titolo di Capitale Europea dello Sport per il 2026. La comunicazione ufficiale è arrivata nella notte da Aces Europe, la federazione delle capitali e città europee dello sport, dopo aver terminato le visite delle commissioni di valutazione alle città candidate per il 2026, ossia le finaliste Napoli e Saragozza. Il titolo di Capitale Europea dello Sport premia per la prima volta una città italiana del mezzogiorno, un'investitura che premia il cammino svolto in stretta collaborazione fra il CONI Campania, il Comune di Napoli e l'USSI Campania. Sì, è la vittoria di tutta Napoli, di tutti i napoletani, di quelli che amano lo sport, di quelli che lo amano di meno, ma comunque di tutti i napoletani, perché è stata una battaglia combattuta da tutti. Io ho chiesto l'aiuto e il supporto di tutte le associazioni di sportivi, le federazioni, hanno risposto tutto e abbiamo quindi dimostrato davvero di essere capaci di raggiungere anche quelle che sono dei sogni. All'inizio veramente pensavamo realizzabili. Ci siamo riusciti, è un grande riconoscimento ed è anche un grande riconoscimento rispetto alla fiducia che si nutre nei confronti di Napoli. Napoli diventa più credibile, è diventata credibile e quindi vogliono puntare su di noi. Quindi grazie a tutti i napoletani. Dopo le universiadi del 2019, Napoli, la quarta città italiana a ricevere il riconoscimento da Access Europe dopo Milano, Torino e Genova, si prepara dunque a vivere un altro periodo di grandi eventi sportivi, con l'organizzazione di un centinaio di manifestazioni nel corso del 2026 che, come ha ricordato il sindaco Manfredi, coinvolgeranno tanti comuni dell'area metropolitana. Un momento di grande soddisfazione aver ottenuto il successo nella candidatura per Napoli, città europea dello sport del 2026. In primo luogo è stato un riconoscimento alla città. Napoli ha vinto con la sua storia, con il suo talento, con la sua grandissima immagine internazionale che ha conquistato, ma anche con la sua cultura, la sua umanità. Il nostro progetto dello sport come grande strumento di inclusione è piaciuto moltissimo a livello europeo e poi c'è stato un grande lavoro che è stato fatto dall'amministrazione insieme a tutto il mondo dello sport. Quindi ringrazio il CONI, tutte le federazioni, le associazioni sportive della città, questo è un riconoscimento veramente importante, è stata una vittoria significativa, siamo molto soddisfatti, però adesso parte il lavoro da fare, quindi investire ancora di più sugli impianti sportivi, sulla loro frizione, sul loro uso, ne faremo di tutto, ci auguriamo poi anche una cooperazione con le altre istituzioni, ovviamente con la regione, la città metropolitana, coinvolgeremo anche gli altri comuni della città metropolitana perché non sarà solo un progetto di Napoli città, ma un progetto che toccherà anche gli altri comuni perché vogliamo un grande sistema Napoli che guarda lo sport e i giovani all'inclusione.